Green Pass, ci siamo. Chi ha bisogno del permesso per viaggiare che attesta la vaccinazione eseguita o la negatività al tampone può scaricarlo dal portale dei servizi della regione FSI. L'utente però deve avere lo SPI, ovvero l'identità digitale, e inserendo i dati lo otterrà facilmente. Il governatore Toma nei prossimi giorni terrà un incontro pubblico per presentare ufficialmente il servizio. Intanto ha svolto con successo un tentativo lui stesso per testare l'efficienza del portale. Stanno caricando tutti i dati. Io le dico una cosa. Prima di fare una conferenza stampa sul Green Pass, che è prevista per la prossima settimana, voglio essere sicuro di dare indicazioni giuste da non dover rettificare ai cittadini. Chi non ha lo SPI deve richiedere le credenziali alla ASREM, ma onde evitare un sovraccarico per l'azienda sanitaria è in via di definizione a un accordo con i farmacisti. I cittadini quindi potranno recarsi da loro e accedere al fascicolo sanitario. Grazie a tutti.